La cosa importante di questa sala operativa è che è una sala operativa interforze. Qui la protezione civile coordina tutte le forze che sono impegnate nell'antincendio e più in generale nella protezione civile. È un esperimento che prevede una grande generosità di ogni organizzazione perché bisogna cedere informazioni, uomini, collaborare e quindi l'io viene sostituito dal noi. E questo è un risultato che qui a Iaco Tenente è stato ottenuto da tutte le forze impegnate e oggi ospitiamo anche la collaborazione innanzitutto degli alpini. Li ringrazio, vengono da tutte le parti d'Italia. Poi c'è invece un distaccamento piemontese che ci sta supportando perché è chiaro che la protezione civile è volontariato, è un'attività che si fa liberamente. E poi ovviamente ci sono i carabinieri forestali che ringrazio. Ovviamente ci sono i vigili del fuoco che sono una componente fondamentale del sistema. Sono coloro che hanno la guida delle operazioni di spegnimento quindi hanno un ruolo strategico fondamentale. E poi c'è l'ARIF. Tutto questo è ospitato dall'Aeronautica Militare perché qui le economie di scala sono totali. Facciamo tutto con quattro soldi, questo va detto. L'Aeronautica ci ospita, il 32esimo stormo ha la gestione di questa base che è una base ovviamente anche con caratteristiche militari perché fa parte della difesa aerea. Però noi le forze armate le facciamo funzionare anche al servizio della popolazione civile e questa ovviamente è una caratteristica tutta italiana che rende le forze armate italiane sempre parte della nostra vita quotidiana. Quindi prudenza a tutti quanti, abbiate sempre cura di non lasciare fiamme non controllate perché in questo modo fate l'operazione antincendio fondamentale cioè non innescate nessun incendio. Poi se c'è qualcuno che ancora si diverte a fare incendi dolosi sappiate che ci sono anche i satelliti adesso per beccarvi.